a belli buongiorno ragazzi oggi è un buongiorno un po particolare rispetto agli altri giorni un buongiorno innevato un buongiorno mezzo bianco e mezzo colorato con i colori dell'autunno che figata che figata fotonica il bello della neve sono tante cose che da l'idea che pulisce un po tutto che spazza via un po le cose fa vedere i paesaggi in una maniera diversa rispetto al solito si può fare i traversoni con la macchina delle cose figate che facciamo da ragazzotti e si possono fare i pazzi di neve come come dicevano i fichi d'india i pazzi di neve ma visto che è una delle cose più belle che ha l'uomo è la fantasia perché fermarci solo ai pupazzi di neve ovvio per quello che metto io per l'idea che mi è venuta ci vorrebbe un bel po di neve tanta neve tantissima neve ma io in questo momento invece di un po pazzo farei un bel locale un bel locale un bel barettino di quelli come si vedono nei film americani dove uno arriva al bancone si fa un bel quischetto con gli amici parla della giornata due chiacchiere e torna a casa e in un momento del genere dove ci hanno tolto diciamo un po l'assaporare la libertà e piacere dalla vita potrebbe essere un bel pupazzo di neve e io penso che farei questo in un modo per ritrovare un po gli abbracci e i sorrisi di qualche mese fa dai oggi rispetto a gli altri giorni ti faccio una domanda te te proprio te proprio tu come lo vorresti il tuo pupazzo di neve anche oggi la rubrica le berbiere ci è stata ci vediamo domani ciao belli